Ed ora conosciamo Odiletta Belleri di Pisogne, provincia di Brescia. A 16 anni lei ha partecipato alle selezioni di Iocanto e X-Factor. A 16 anni lei ha partecipato alle selezioni di Iocanto e X-Factor. A 16 anni lei ha partecipato alle selezioni di Iocanto e X-Factor. A 16 anni lei ha partecipato alle selezioni di Iocanto e X-Factor. A 16 anni lei ha partecipato alle selezioni di Iocanto e X-Factor. A 16 anni lei ha partecipato alle selezioni di Iocanto e X-Factor. A 16 anni lei ha partecipato alle selezioni di Iocanto e X-Factor. A 16 anni lei ha partecipato alle selezioni di Iocanto e X-Factor. A 16 anni lei ha partecipato alle selezioni di Iocanto e X-Factor. A 16 anni lei ha partecipato alle selezioni di Iocanto e X-Factor.